Hanno rubato una gondola dall'ortazio dell'Accademia e si sono messi alle mani in pieno canna grande a Venezia. Non essendo affatto dei gondolieri e non avendo alcuna esperienza di laguna né ai remi, la logica conseguenza è stata quella di andare ripetutamente a sbattere in modo rovinoso contro le rive e il pontilacì tv dell'Accademia. Due twisti francesi sono ora nei guai, sono stati fermati dalle volanti della questura di Venezia e alla richiesta di spiegazioni hanno risposto che volevano semplicemente andare a fare un giro. È un episodio che è davvero incredibile quello che si è consumato nella notte appena trascorsa a Venezia. La gondola, di proprietà di Roberto Bognolo, gondoliere professionista, era ormeggiata per la notte all'Accademia e non a Santomà e ha riportato danni per circa 15.000 euro. Si tratta di un fatto piuttosto grave subito dal mio cliente che è un noto gondoliere veneziano. È per questi motivi che lui intende perseguire fermamente i responsabili di questi fatti, sia in ambito penale che in ambito civile, anche ai fini del risarcimento e del ristoro di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e soprattutto morali patiti. Il proprietario della gondola è stato avvisato con una telefonata intorno alle 3.30 di oggi che la gondola era stata ritrovata, anche se con numerosi strisci, ammaccature e danneggiamenti di vario genere. Per fortuna sono stati notati da un gruppo di fiossi che lavorano allo stazio del Denieri in riva degli Schiavoni. Fiossi è il termine con cui in dialetto vengono chiamati i tirocinanti gondolieri, li hanno fermati fino all'arrivo del personale della questura delle volanti. I turisti francesi sarebbero stati ai remi per oltre un'ora prima di essere scoperti. Grazie a tutti.